Mister, ti chiedo anche una lettura, un'analisi generale della partita. Tu poco fa, le precedenti interviste, hai detto che c'è mancato quel mestiere, anche quella ripetitività del non voler prendere un certo tipo di gol. È stato quello, forse, il deficit maggiore stasera? Secondo me la squadra ha iniziato bene la partita, con personalità, con coraggio, eravamo aggressivi, alti. Poi, certo, si poteva magari gestire meglio qualche scelta negli ultimi metri, poi dopo siamo andati sotto su questo rigore, però tutto sommato, primo tempo si vedeva che eravamo in partita. Quello che dispiace è che abbiamo il secondo gol, abbiamo la palla a noi e la perdiamo tantamente dalla porta e non facciamo la preventiva su un unico giocatore che c'è, Belotti, che lo sapevamo, ci lavoriamo tantissimo e poi lasciamo campo alla Roma che parte in contropiede, ha una qualità importantissima, ci fanno 2-0. Questo è il dispiacere perché lì bisogna anche far fallo di nuovo, torniamo alle solite, lì bisogna interrompere l'azione e bisogna far meglio la preventiva su Belotti. Poi, secondo me, la squadra è ritornata bene in partita e ha preso campo aggressiva in avanti, abbiamo conquistato proprio su una palla veloce un tiro di nuovo rigore e lì, secondo me, con 25 più recupero alla fine, se Pereira avesse fatto il rigore, può succedere di sbagliare un rigore, però è chiaro che se fai il 2-1 può cambiare anche il risultato perché lì nettamente avevo la sensazione che la squadra stava venendo fuori, stava riconquistando campo. Poi addirittura il terzo gol che mi sembra anche esagerato perché comunque c'era solo una squadra che giocava, magari ecco, non siamo stati, secondo me bisognava calciare più volte in porta, anche se abbiamo tirato magari non con tanta precisione, ripeto, però la racchiudo anche lì la partita, nel secondo gol che potevamo evitarlo e il rigore che magari ci avrebbe riportato in gara come psicologicamente e come risultato perché poi recuperi il 2-1. Anche perché, poi ti lascio alla domanda da studio, sul rigore viene giustamente ammonito Mancini, inizio al secondo tempo Mancini aveva strattonato Success, quindi poteva cambiare doppiamente col rigore segnato e un'eventuale anche superiorità numerica, no? Non per fare polemica, perché tu non l'hai anche detto. Però è anche vero che io mi sono rivolto al quarto uomo, il quarto uomo mi ha detto molto probabilmente andava ammonito, queste sono state le sue parole, quindi Mancini andava ammonito e poi sul rigore sarebbe stato espulso e questo secondo me era a detta di tutti, ripeto. No, non è chiaro, senza voler cercare... No, no, non è che era polemica, però è anche vero che secondo me lì ci manca una munizione. Per come siamo costruiti in questo momento, in questo momento, da gennaio quando abbiamo perso anche dell'Ufeu, è chiaro che la squadra è un po' cambiata, quindi la coppia là davanti, sappiamo benissimo che Success è il giocatore più comsono a giocare a piede per le sue qualità straordinarie e Beto è quello che attacca lo spazio e quindi diventa una coppia, diciamo, molto complementare. Non mancando Beto è chiaro che ci manca un po' di attacco alla profondità, lo sapevo, lo sapevamo, però andavano più innescati un po' più i quinti che secondo me potevano spingere un po' di più, attaccare più spazio. L'avevamo preparata perché è chiaro che Pere era un giocatore che viene a raccordare, ma lo sapevo e l'Ovric e i due quinti erano quelli che dovevano inserirsi di più, quindi è chiaro che poi sappiamo che Beto per noi è un giocatore fondamentale, la sua assenza è normale che sia sentita, però ripeto, la squadra secondo me è stata sempre in partita, è una partita un po' così, ripeto, mi è dispiaciuto per il secondo gol che non dovevamo prenderlo perché abbiamo la palla a noi in uscita e sapevamo di non forzare, l'avevo detto che non dovevamo forzare centrale, dovevamo cercare sempre queste giocate laterali per poi girarli e andare dall'altra parte, cercare degli uno contro uno, invece abbiamo forzato, poi abbiamo una palla a perso 80 metri e ci fanno gol, questo è quello che fa arrabbiare e poi comunque abbiamo un calcio di rigore con 30 minuti alla fine, peccato, peccato veramente, dispiace per i tifosi, dispiace per tutti, dispiace però dobbiamo archiviare e passare all'altra partita.